Feel the vibe! È falso! Chi? No, questa non è vera, è falsa! È un disco, Paolo, aspetta! È una bufala, non è vero! È il disco di Bob Sinclair! Questa è vera! Questa è vera! È sempre lo stesso disco! È in anticipo di qualche minuto su ciò che verrà! No, perché siccome ho fretta, devo andare via alle quattro, allora ti sto portando avanti! Io, 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 posso dire due parole carine? No, prego, no, perché non voglio parlare di questa cosa che è una cosa abbastanza difficile da affrontare. No, no, no! Oh, è arrivato un pacco della TNT Trago! No, è che a forza di guardare i cantierini è andato alla maglia dell'anas! Ma perché sei vestito da zucca, uomo? Che cazzo vuoi con tuo arancio, man? Hai forato i piedi! Ho cambiato le scarpe! No, altre scarpe di pezza, ma camouflage! Questi sono più belli! Che cazzo vuoi ancora? No, ma so, devo parlare delle cose importanti, eh! Tu devi assolutamente, tu sai che sono ingazzati come l'erba! Inga, l'erba! Perché l'erba è sempre un gazzio! Non ti fai male! Ieri mi è arrivata una richiesta da lontano, no, da Miami, tu lo sai, no? Ah, da Dio! Ti ha detto, ti vuoi muovere? Sei in ritardo! No, 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 sai che il leone di Lernia è ingazzati come una bestia! La cubana è mandata a dire a Ricky Juan questo figlio! Devi spiegare però Leone, ascolta! Non è che... Ma lo sanno! Il 99% delle persone che ascoltano non sanno chi è leone di Lernia! Lo sanno! Eee! Il 99,9% delle persone che ascoltano lo zoo non sanno chi sei! Ma cavolo! Leone di Lernia ha una famiglia di merda, perché è giusto così, perché Dio... La famiglia mia è bella! Dio vede, Dio provvede, no? Dio ha detto, cosa faccio? Questo uomo di merda ladro farabutto lo accoppio con una stronza che gli creerà quattro figli di merda che gli stanno rovinando l'esistenza! No, 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 due sono di merda, ma... Questo è perché tu nel passato hai rubato soldi a me, a Fabio, a Giba, a tutto il mondo hai rubato soldi! Ah, non che mi avete rubato... No, bello mio! La miseria, io c'ho le testimoni qua! Ti vedo un po' spento, prendi un pocket waffe... La carica del caffè più nel cielo del baffanculo! La puttanona lì, no? Allora, tuo figlio, tuo figlio Ricky One, tuo figlio Ricky One si è sposato con una cubana, che è notoriamente un troione... Scusate, voglio calmare gli animi, mi metti un eco? Scusa, scusa, potresti ripetere la puttanona, però aspetta, aspetta, con l'eco, grazie, aspetta, ti dico io... Quella puttanona lì della cubana, che sta fregando tutti i soldi, no a Ricky One, oppure a Lennaro, a Leone di Lerni, sta fregando tutti i soldi. Perché cosa è successo? Allora, tuo figlio, siccome è notoriamente una merda... Un coglione! A parte un coglione, ma è anche brutto, è proprio il peggio riuscito, no? Ha litigato con Davide di Lerni ieri sera... Diciamo che lui, in teoria, dovrebbe girare col pulmino giallo e cercare delle benedizioni a Lourdes, robe varie... Ma tu hai deciso di dargli un taxi, lui cosa ha fatto? Ha venduto la licenza del taxi... Tramite quella... Oh, ieri, la cubana... Gli ha mandato i soldi alla cubana giù a Cuba per costruire un albergo, tra l'altro l'hai vietato, cioè hai vietato... Senti, Ricky One, quella puttana da mamma, senti che hai vietato... Lei si è imboscata a 200.000 euro, in più, tra l'altro a Cuba con 200.000 euro, sei l'uomo più ricco del mondo... Anche Fidel Castro... In più, il coglione le manda anche 2.000 euro al mese... Ecco, bravo... Mo, 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 ha detto che l'amico che aveva insieme, che faceva la guardia a quest'albergo... Sì... Gli ha fregato il cemento... Nooo... Gli ha fregato il cemento... Guarda, 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 figliolo... Gli ha fregato il cemento, ma so... Guarda, figliolo, un giorno tutto questo gran cazzo che me ne frega sarà tu... No, no, Fabio, tu non hai capito che poi ti fassi la canzone a te sfigato... Senti un po'... Allora, Nenna Rosa... Tua moglie... Ma cula aperta anche lei... Tua moglie... E ha andato con la banca, con Ricky One... E ha mandato 3.000 euro a questa cubana di merda... Perché dice che è stato fregato il cemento... Ma aspetta, aspetta, scuola... Scusa... Stai a impazzire, ma so quando non mi capisci... Ma... Leo, ti rendi conto che Dio ti sta restituendo tutta la merda che hai fatto nella tua vita? Cioè... Sì, è vero, perché questi figli che non dovevano crescere... Dovevano rimanere 2 anni e mezzo e basta... Di colpare non me la metti con i miei figli... È la cubana che insiste, sai, l'ha fatto la macumba a tutti... Ricky One, tassista, fallito... Bellissimo! Non ha le cuffie qui, non se ne rende conto... No, no, no... Spiega, spiega... No, no, no... Spiega, spiega... Ma so, guardi che ho l'indicato... Ieri sera abbiamo fatto ammazzata a casa mia... Sì... Qui ci sta mettendo tutta la famiglia... Che sta finire... Meramente... Meramente... Non ha messo... Non cazzo... Non cazzo... Sto dicendo che sta fregando da te 3.000 euro... Quindi voi non vengono il 20 luglio... Oh, te ne asce il 20 luglio... Te ne devi andare... No, ma spiegamelo meglio... Perché non lo capisco... E non venire più a Milano... In Italia... Dite la vacuola... Che devi andare a fare pure il posto... Se è strato... Non c'è tre problemi... Insomma, non ce la faccio... Perché è troppo lungo... No, ma spedì... Io ho l'ultima domanda... Ma senti... Ma Davide... Davide in tutto questo... Cosa dice? Davide ha fatto ammazzati... Ieri sera con tutti quanti... Cosa ne va? Deve... Inizia di truffare i soldi... Allora non diverte... Sennò qui facciamo... La famiglia... La famiglia... La famiglia... E mi coglione a me... Pazzesco... Allora ci sono... Quindi in sintesi... In sintesi... Allora tu hai un figlio... Che è un coglione... Coglione... Che è Ricky Wan... Che creda la Cubania a Fidel Castro... Fidel Castro... E quindi ha mandato 200.000 euro... Più 2.000 euro al mese... Più 3.000 euro ieri... Che gli hanno fregato... No, no... Scusa un attimo... Ma io in tutto questo... Non l'ho capito bene... Ma la Cubana... Cosa dice? No, perché è importante... Mi ha mandato un messaggio... Aspetta... Magari... Aspetta... Scusa... Magari sta ascoltando lo zoglio... Lo diciamo insieme... Cubana... Cubana... Sei una grandissima... Non rubare più soldi a Ricky Wan... E vaffanculo... Adesso lui il mio vi era morto... Mi vorrebbe più tempo... Ciao, ciao... Dai, Leo... Grazie... Sta arrivando l'Abbiettoria... Per costruire una statua del gran cazzo... Che ce n'ha portato... Leo... No, mi raccomando... Questa volta... Vieni sempre senza cuffie... Perché è importante per l'acustica... Sì... Io ti amo... Mi fa fallire... Grazie... No, Leo... Fallire... C'ha paura... Mi tiene in calabria... Eh, no... Ma guarda che si... Tutto... Abbiamo saputo tutto... Leo... Puoi stare ancora 30 secondi... Che finisco il quadro a Candy Crush? Grazie, Leo... Hai colpulato i soldi... Eh, anche la ricerca del tassi... Non mi incendiare ancora... Figlio di puttana... No... No, basta... Quando se ne va... Vodo, ladro di merda... Sei un genio, Pippo... Lo sai... Ragazzi... Eh, cosa... No, perché ve lo spiegate... C'è una cosa... No, non ce ne frega un cazzo... No, non ce ne frega un cazzo... No, non ce ne frega un cazzo...